Insomma, essere definito l'uomo di fiducia della Chiesa Cattolica mi sembra davvero impegnativo. Dire che sono una persona che nella sua vita ha percorso una strada, diciamo, in questo settore, nel settore sia della legalità, della giustizia, ma anche della prossimità alle persone, è vero. Ecco, l'impegno prosegue nel servizio alla carità, nel servizio attualmente presso la Fondazione Eni, ma anche con le misericordie alle quali appartengo fin da giovane, con l'Associazione Rondine e con altre realtà. Quindi mi fa piacere che possa essere riconosciuta a questo servizio, che faccio veramente con spirito di umiltà e di vicinanza alle persone che soffrono in questo momento così difficile per la nostra società. E' Domenico Gianni, nuovo presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Gianni ha riportato una percentuale intorno all'85% dei voti. Una vita spesa al servizio del prossimo, quella di Domenico Gianni Arrettino, 58 anni, sposato con due figli, fino al 2019 capo della Gendarmeria Vaticana. Che dire dei miei 21 anni di servizio alla Santa Sede? Ovviamente sono stati anni molto intensi, unici oserei dire, particolari, e mi hanno permesso di avere uno sguardo, una visione del mondo da un luogo particolare, privilegiato, di aver visitato tantissimi paesi, 80 viaggi internazionali, quindi una vita in movimento, tanta responsabilità, anche un sacrificio forte a livello familiare per mia moglie, per i miei figli. Sono stati anni molto intensi, ma anche anni di grande gratitudine, perché ho conosciuto tante persone, e non intendo qui le persone, come dire, quelli che noi consideriamo i potenti, ma tante persone semplici, tanta gente che dedica la sua vita al servizio alla Chiesa, al servizio alla persona, per la difesa della promozione umana, per la difesa della vita in generale, per essere voce di chi non ha voce. Tanta gente, tanti malati, tanti poveri, e davvero quelli sono le persone che porto nel mio cuore e alle quali sono maggiormente grato. Dal 1 ottobre 2020 guida in qualità di presidente la Eni Foundation, ente soggetto al board di Eni, che ha come missione attività umanitarie. Da oggi dunque guiderà anche le Misericordie d'Italia, una realtà che conta 800 sedi in Italia, 100.000 volontari e 800.000 soci. Non è solo il servizio di ambulanza o il servizio ai defunti, ma ci sono realtà veramente di servizio alla persona, ci sono residenze sociali di ultima generazione, nel senso dell'approccio ai problemi delle persone con questo rispetto che si deve. Ci sono asili per i bambini, ci sono servizi ai disabili di altro genere, c'è la protezione civile, ci sono luoghi dove non ci sono le ambulanze neppure, ma quella Misericordia lì in alcuni paesini della Sicilia sono l'unico avamposto. Allora io credo che sia importante, molto importante, ecco quest'aspetto ecclesiale, rilanciare il concetto di legalità, perché credo che oggi la legalità sia un vissuto, deve essere un vissuto per ognuno di noi, non si può continuare a proclamarla e poi avere comportamenti strani, ibridi. E poi ci sono tutta una serie di aspetti, gli aspetti legati appunto alla promozione della difesa umana, della dignità umana, al dialogo interreligioso e interculturale, all'aspetto educativo, le Misericordie fanno un grandissimo lavoro nel settore educativo. E poi soprattutto ecco la difesa dei più fragili, gli anziani, come dico, anche come fondazione, prima lo dicevo, ma le Misericordie che sono intessano il tessuto della società possono svolgere questo importante ruolo.